ma non è fantastico tutto ciò punto di domanda e anche punto esclamativo a capo al numero otto invece c'è Captain Hollywood Mario niente era un aspetto speciale del DJ Fargetta we are flying high we're flying high we're flying right up to the sky we fly so high we're flying right up to the sky with our land of space ship from the ground some stars are shining from the ground so high we're flying right up to the sky we're flying high we fly so high we fly so high we're flying high we fly so high we fly so high Grazie a tutti. 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 Ho detto di dire oh per caso? Vabbè dite oh dai. Ho say ho. Non conto più niente. Quando ve lo chiedo non lo fate. Sbaglio? Questo è Getty Co. La numero undice è la numero sei in salita. Fini. Te lo dico io lo fanno. Prova. Prova. Say ho. Provo io. Say ho. You're turning on the radio. Ciao. 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 Getty Company. Getty Company. La pronuncia non è questa. La pronuncia è Getty Co. Cioè si taglia tutto il Mfani e si legge solo fino a O. Getty Co. Numero cinque. Gillette. Bilama. Ma ma. E 20 fingers. Questa è Mr. Personality. All right, ladies. All right, ladies. You know what I'm talking about. You know what I'm talking about. They were like short. You're talking about what? They're ugly. Ugly people. Are you still a virgin? Don't want no ugly mother sucker. Don't want no ugly mother sucker. Don't want no ugly mother sucker. Don't, 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 don't want no ugly mother sucker.